Ciao a tutti e con grande emozione che il Parco Fenice si apre all'esperienza di EcoFuturo per la prima volta quest'anno. Il Parco Fenice nasce nel 2000, nel lontano 2000, per iniziativa di due soggetti che già di per sé rappresentano un'ecoevoluzione, perché sono il Consorzio Zona Industriale di Padova e lo scautismo locale padovano. Questi due soggetti si sono messi assieme, hanno recuperato risorse con il loro lavoro senza chiederle alla pubblica utilità e hanno recuperato 8 ettari di terreno, che sono quelli che vedete oggi e oggi ci troviamo in questa cornice mentre un trattore di biometano sta cercando di entrare all'interno del parco mentre un tir con gas liquido si sta facendo strada grazie alle nuove tecnologie della trazione mentre ecco soluzioni di tutti i tipi legati alla mobilità, alla depurazione, al biogas si fanno strada nel vivere quotidiano dei cittadini. Il Parco Fenice è felice di fare tutto questo perché ogni anno ospita 430 scolaresche da tutte le regioni d'Italia se fate un calcolo per 20-25 bambini a testa potete immaginare con quante piccole e giovanimenti abbiamo la possibilità di parlare di questi temi e di prepararli alle professioni del futuro inoltre una cosa molto interessante, lavoriamo con i professionisti ABB, Toshiba, Samsung, Clima Veneta, Baxi ci sono tutta una serie di grandissime aziende che vengono qui a fare la formazione dei loro installatori facciamo il corso per esperti dell'energia con Enea il corso di domotica certificato Connex con ABB il master in finanziamenti europei e in bandi di gara internazionali con docenti che vengono anche da Bruxelles è per noi quindi un piacere scommettere in questo stile di vita e pensare che i green job siano un'opportunità per le generazioni future di trovare un'espressione lavorativa che sia utile per portare a casa uno stipendio che piaccia ma che sia anche utile alla collettività sotto questo profilo una riflessione che mi fa piacere fare con voi che anticipavo ieri a Radio Cooperativa è quale sarà il cittadino del futuro il cittadino del futuro sarà un cittadino che usa ecotecnologie non solo fisiche, chimiche e ingegneristiche ma anche ecotecnologie delle scienze inesatte sociologia, comunicazione e condivisione il cittadino del futuro abitirà in case condivise dove ci sono lavanderie condivise dove ci sono garage condivisi dove ci sono spazi comuni condivisi condividerà l'energia talvolta la autoprodurrà il cittadino del futuro avrà un'auto elettrica che si ricaricherà di energia ma che avrà un accumulatore di energia tale per cui potrà essere utilizzata addirittura cedendola alla casa io potrò ricaricare l'energia in ufficio e cederla nella mia casa o negli usi diffusi di mio interesse il cittadino del futuro possederà microtecnologie in grado di fare depurazioni e microinquinamenti o rilevazioni di tutti i tipi ambientali all'interno della propria casa il cittadino del futuro è insomma un cittadino consapevole che usa le ecotecnologie diffuse consapevolmente lo scopo dell'iniziativa Ecofuturo e anche del Parco Fenice è ridurre il gap di conoscenza che c'è tra la tecnologia e l'uso della tecnologia non è possibile pensare che oggi un cittadino degli anni 2000 utilizzi un qualcosa di cui non ne conosce si possono spiegare sin da bambini cose semplici con un piccolo forza 4 si può spiegare l'effetto fotoelettrico di Einstein che è un grande pieno di elettroni che trova un grande vuoto di elettroni e lo spieghiamo a tutti i bambini con un piccolo sistema di forza 4 ma con una giostra idraulica un carosello idraulico si può spiegare il teorema di Bernoulli per quanto riguarda il vento il teorema di Betts è semplicissimo e lo spieghiamo attraverso piccole simulazioni di giochi di ruolo insomma si possono inserire i concetti anche se poi è chiaro che il concetto verrà maturato nel tempo nei vari gradi di istruzione ma bisogna impegnarsi affinché le attività extracurriculari integrino i percorsi scolastici ridandogli quell'attualità che oggi si è un po' persa e in questi giorni noi al parco abbiamo anche ospiti come progetti europei 40 ragazzi che provengono da Sofia, Bulgari con il progetto Erasmus Plus è il sesto progetto che vinciamo e questi ragazzi in 15 giorni di permanenza avranno la possibilità di fare i laboratori del parco su robotica e droni ma avranno anche la possibilità di fare 5 giornate di formazione presso Sciuco dove impareranno i concetti dell'efficienza energetica e 3 giornate in Solidalia dove faranno alcune attività manifatturiere legate al distretto della Scarpa ecco questi sono i piccoli miracoli dell'Europa ci sono fondi e risorse che se utilizzati bene possono dare ai cittadini una possibilità di futuro diversa una vita consapevole vita dove non si diventa ricchi di soldi ma si diventa ricchi di idee e contenti di quello che si fa e forse questo dovrebbe essere un po' il monito che credo un po' tutti noi vogliamo lanciare alle persone una ricchezza fatta di una pienezza un po' più insensolato del benessere economico solamente In base alla tua esperienza che ormai va avanti da anni è aumentata la consapevolezza e la coscienza della sostenibilità dell'importanza dell'ambiente anche fra i bambini? Beh, si dice in sociologia che ci vogliano tre generazioni perché un comportamento diventi spontaneo la mia generazione differenzierà il rifiuto in maniera spontanea solamente fra due salti generazionali quindi, vabbè, più che la mia generazione intendo dire che se imparo oggi come si fa, i miei figli lo faranno così così e i figli dei miei figli saranno in grado di farlo in maniera spontanea è chiaro che oggi si sta comprendendo il problema la spontaneità è un lavoro che, come diceva il grande Isaac Asimov la fondazione è quell'elemento che dovrebbe ridurre il tempo tra il passaggio di una civiltà e l'altra noi oggi stiamo passando dalla civiltà del consumismo all'economia del consumismo all'economia circolare il passaggio dell'economia del consumismo all'economia circolare passa dall'accettazione di alcuni paradigmi che non significa rinunciare a benessere ma comprendere che la condivisione di alcuni aspetti della vita sociale sono utili per avere dei benefici in termini economici ma anche pratici di salvaguarda delle risorse dell'ambiente Perfetto, grazie mille Andrea buon lavoro Un saluto a voi tutti ci vediamo a Ecofuturo www.festivalecofuturo.it anche alla sera ci sono i convegni gratuiti questa sera Lucia Cuffaro ma Albertini anche loro tutti e due della RAI Michele Dotti carissimo amico del parco e l'ultima sera il nuovo spettacolo di Jacopo Fo quindi è gratis è qui al parco è a Padova ho voglia di vedervi e di conoscerci grazie a tutti grazie mille ciao grazie mille